11 rapine in soli due mesi, un record che proprietà ai dipendenti avrebbero volentieri fatto a meno di raggiungere, quelli di un distributore di benzina di Viale Europa nel cuore del quartiere San Paolo di Bari, per l'ennesima volta meta di banditi in cerca di soldi facili. L'ultimo episodio ha visto come protagonista un uomo ancora non identificato, che col volto coperto da un cappuccio e armato di pistola, si è fatto consegnare da due addetti parte dell'incasso di giornata prima di darsi alla fuga. Del caso si è occupato anche il sindaco Antonio De Caro, che ha visitato l'area di servizio aperta 24 ore su 24 e ha incontrato i dipendenti. Ma a nulla sono servite le rassicurazioni del primo cittadino. Il distributore è stato preso nuovamente di mira dalla criminalità, dopo che nei giorni scorsi altri colpi erano stati messi a segno dai rapinatori in modi diversi, presentandosi in bici, in pigiama o addirittura coperti da uno scafandro. Della curiosa quanto preoccupante vicenda si discuterà a breve, anche nel corso della prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.